Nel Missouri un agente fuori servizio ha ucciso un giovane di 20 anni che stava tentando di entrare nella sua abitazione. I due su Facebook avrebbero avuto una discussione su Black Lives Matter, il movimento che si batte contro le violenze della polizia. Proseguono le proteste negli Stati Uniti per i cittadini afroamericani uccisi durante interventi della polizia. Arrestate nove persone finite in cella ad Atlanta. Sono così diventati 250 gli arresti nei tre giorni di contestazione. Domani intanto ai funerali dei cinque agenti morti nella strage di Dallas ci sarà il presidente Obama.